Allora, il piscino lo porto via sui dati, poi facendo passare così peggio, con il piscino con la chiarizzazione, se non entra magari a dare qualche volta qua, che non mi sento ancora, dopo, e questo, e qua, questo per accedere, se poter andare a rinforzare ancora, questo punto posso partire, questa cosa vai giù, e parte!